Ciao, mi chiamo Manuel Rosati, ho 15 anni, il prossimo febbraio ne compirò 16. Vengo da Albinia, una piccola frazione in provincia di Grosseto. Sono alto 1,82 m ed è da 4 anni che studio recitazione cinematografica con l'Accademia Professione Artista di Roma. Questo è il mio profilo destro. Adesso il mio profilo sinistro. Queste sono le mie mani e adesso la figura intera.